Al posto di fare processi stiamo vicini alla squadra, ma che cazzo dovremmo fare? Dovremmo andare a casa del mister e portarli due Kinder Bueno? Andare a casa di la Toro Martinez e farli cucinarli un asado? Che cazzo dovremmo fare? Devono stare loro vicino a noi! Devono stare loro perché la colpa è di tutti, la colpa è di tutti, quello che non sopporto è l'accanimento sul mister, che ha colpe tutto quello che volete. Ma di certo non è colpa sua se l'Inter non è forte come quella dell'anno scorso, ok? È normale che ci sfoghiamo su sto cazzo di socio, ci sfoghiamo! Una cosa è sfogarsi, una cosa è essere distruttivi, una cosa è l'accanimento, una cosa è l'insulto al prescindere. Come abbiamo visto settimana scorsa, ma Onana non ancora arriva, già stiamo criticando Onana. Eh no, ma Inzaghi con Conte, Conte se n'è andato lui! Conte se n'è andato lui! E Conte aveva un Lukaku in più, un Hakim in più, Conte aveva un Eriksen in più, Conte aveva un Lele Oreal in più! Aveva uno star power superiore e poi se n'è andato lui! Se n'è andato lui e quindi chi vorreste? Cioè chi avremmo dovuto prendere? Allegri? Allegri ti ha rifiutato! Oltre a Allegri chi dobbiamo prendere? Maurizio Sarri con la tuta sporca di sugo domenicale, chi dobbiamo prendere? E' normale che Inzaghi era la scelta migliore, come è normale che sono colpi anche di Inzaghi perché anche io lo vorrei più, lo vorrei più coraggioso ragazzi! Anche io vorrei il mister più coraggioso! Anche io vorrei il mister più coraggioso! Pure a me non mi è piaciuta la gestione dei cambi, però purtroppo non gli si perdona un cazzo! Era partito ad agosto che lui sapeva che l'Inter sarebbe stata costruita, avrebbe costruito l'Inter intorno a un attaccante da 120 milioni Che può giocare benissimo nel Real Madrid, può giocare benissimo nel Barcellona, nel Manchester City che lo voleva, può giocare nel Chelsea che l'ha voluto e può giocare nel Manchester United dove ha giocato Questa rosa, mettetevela in testa, è nettamente inferiore rispetto alla rosa dell'anno scorso Quindi Inzaghi ha colpe, certo, ma è colpa al netto di un allenatore Ragazzi, Inzaghi non è conte e non lo sarà mai, non lo sarà mai Ma non deve essere una sua colpa! A maggior ragione, se prendi un allenatore meno forte, devi aumentare, modificare in meglio e in positivo la qualità della rosa No, quest'anno, società, ci siamo indeburiti Abbiamo perso l'Ele O'Reali L'Ele O'Reali e l'Inter L'Ele O'Reali è paragonabile a Giacinto Facchetti O'Reali, seppur con stili differenti, è paragonabile, totalmente differente È paragonabile a un Peppino Prisco E non abbiamo O'Reali E non abbiamo Lukaku 120 milioni vale Lukaku, pure qualcosa in più Non abbiamo Hakimi, anche se Danfri sta giocando bene Non abbiamo Eriksen Abbiamo dato un segnale Non abbiamo un allenatore da 12 milioni l'anno Abbiamo preso uno da 4 milioni che prende un terzo Che cazzo volete da Inzaghi? È normale che deve, perché pure a me a volte mi fa cadere i coglioni Ma da qui a sentire gente che vuole la testa di Inzaghi È veramente una cosa scellerata Non voglio dire parolacce, anche se già le ho dette Veramente dare la colpa di questa situazione Di un Inter che da campione d'Italia Da campione d'Italia Si ritrova al terzo posto È comunque momentaneo Comunque io ci voglio credere ancora Sono un illuso del cazzo ragazzi Ci voglio chiedere ancora Però da qui a far ricadere tutte le colpe di Inzaghi Con un Inter senza Oriali Senza anche lo stesso Conte Senza Lukaku Senza Kimi Senza Eriksen Un Inter che ha venduto per 190 milioni di euro E ha ricavato per E ha acquistato per 35 milioni Palesemente indebolita Di certo non è colpa di Inzaghi Perché se Inzaghi avessero dato l'opportunità di fare mercato Avrebbe pure potuto dire No ragazzi A me va bene la squadra così Posso fare a meno anche di Di Marco Ci riprendiamo Biraghi E posso fare pure a meno di Danfris O Hakimi E Darmian Eccetera eccetera Adesso è colpa di Adesso è colpa di Inzaghi Sta sbagliando Deve dare la motivazione Deve tirare fuori i coglioni Più coglioni di quelli che ha Perché non riesco a immaginare Il mister una persona senza pathos Deve avere più pathos Sì Inzaghi un grande errore Un grande errore sta facendo Deve capire che nell'Inter L'allenatore è tutto Nell'Inter l'allenatore È quello che fa la differenza Rispetto alle altre squadre Perché quando si parla del Milan Il Milan delle olandesi Si parla della Juve La Juve di Platini La Juve Ok Quando si parla Quando si parla Della Roma La Roma di Totti Quando si parla dell'Inter Si parla di Inter di Murigno L'Inter di Trapattoni Anche Matteo Sa di la verità L'Inter di Gigi Simoni L'Inter di Antonio Conte Non si dice l'Inter di Lukaku E di Lautaro Martinez Ergo Ergo All'Inter Ci vogliono Gli allenatori Top E Appena sotto Gli allenatori Top Purtroppo O per fortuna Simone Inzaghi Era la migliore scelta Perché Allegri Vi ricordo Lui non è voluto venire Lui Come Conte che se n'è andato Lui non è voluto venire All'Inter Quindi Chi avremmo dovuto prendere? Gattuso Chi avremmo dovuto prendere? De Zerbi L'abbiamo visto in Coppa Campioni Quanto fa cagare De Zerbi Lui e la sua costruzione dal basso Che anche da noi La odio Chi avremmo dovuto? No ma devi prendere Simeone Simeone prende 17 milioni Sono andato a vederlo oggi L'hanno rinnovato A 17 milioni l'anno Ma di che cosa stiamo parlando? Che in Spagna lo può prendere 17 milioni Gli può prendere 17 milioni l'anno Perché porca di quella troia Sono tassati tipo al 15% I calciatori e gli allenatori Ma dove vivete? Su chi vogliete? Klopp 18 milioni l'anno Ma chi li dà in Italia 18 milioni l'allenatore? Avete rotti i coglioni Che ne prendeva 12 conte Adesso volete gli allenatori Da 15 milioni Ma fatemi il piacere ragazzi Inzaghi deve migliorare Deve cacciare fuori i coglioni Deve cacciare fuori il carattere Deve un attimo osare di più Essere meno banale Meno conservatore Tutto quello che volete Perché io sono il primo a riconoscere I cambi sceglierati squallidi del mister Ma sono anche il primo a difendere La spada tratta Perché io lo considero vittima Come noi di un indebolimento Avvenuto quest'estate Punto Punto Quindi non rompete il cazzo al mister Andiamo avanti con il mister Perché in giro Non vedo Chi è più bravo In Italia Tolto Allegra e Conte Chi è più bravo di Inzaghi? Eh no ma quello Oggi ho sentito che la gente Voleva quello del Genoa 8 partite in Serie A Di Catenaccio Volevano quello del Do Perché? C'ha carisma Ma che cazzo ne sapete? Una cosa è approcciarsi al mondo Genoa Con tutto rispetto Una cosa è approcciarsi nella piccola realtà L'abbiamo visto con Gasperini Una cosa è giocare all'Inter L'ambiente dell'Inter Nonostante è migliorato negli ultimi anni Ti si rimangia E ti si ricaca Ok? No ma perché? Puoi prendere italiano Ma che cazzo è da ragazzi? Ma ragazzi Ci vogliono gente Gente che ha giocato Che ha giocato ed allenato All'Olimpico Davanti a 70.000 persone Inzaghi era il profilo giusto Purtroppo Non è forte come Conte Infatti costa un terzo Ed è una sua caratteristica Non ha il carattere di Conte Certo ci mancherebbe Però Quando giocava bene l'Inter Era merito della società Gioca male l'Inter E di merito di Inzaghi Può essere Può essere di merito di Inzaghi Inzaghi Secondo me 5-6-7 punti Se li sputtanati lui Sono il primo a dirlo Ma l'errore Con una rosa più debole È normale È normale Che diventa più determinante Poi ci va tutto contro Il tiro di Sanchez Biraghi Para sulla linea Tutto quello che volete Ma quello che non tollero io Gli Inzaghi out Ok Gli Inzaghi out Chi prendiamo? Zenga Zenga Esonerato ovunque Un pezzo di cuore nostro Ma esonerato ovunque Dove è andato? Esonerò Ma ha vinto in Uzbekistan Chi dobbiamo prendere? Cambiasso Uno dei miei 5 giocatori preferiti Di tutta la mia vita Dove cazzo è allenato? Cambiasso Cambiasso è l'Inter Ma dove cazzo è allenato? Eh no Possiamo prendere No Ma Simeone Eh sì Ma andiamo là Ma andiamo a Madrid Diciamo Ragazzi Da oggi Facciamo come il libanese in carcere Andiamo a Madrid Facciamo così Aspetta dai Facciamo così Se lo trovo Te lo faccio Se lo trovo In questa casa Non si trova mai un cazzo Facciamo così Dai Andiamo là Perché Simeone C'ha ancora un contratto Con loro Andiamo diciamo Da oggi Da oggi Da oggi Tu giochi Tu alleni l'Inter Ok Da oggi comandiamo noi Su di te Altrimenti la prossima volta Sarai tu a fare i conti Col Padre Eterno E li buttiamo il crocifisso Eh? Facciamo così Come hanno fatto Il libanese Il freddo E il dandy Ma che cazzo Ma dove cazzo vivete? Ma dove cazzo vivete? Sosteniamo Cerchiamo di arrivare A giugno compatti Uniti Prendiamocela più Sui calciatori Che si mangiano i gol Da dentro l'area piccola E non parlo solo degli attaccanti Perché il gioco può essere anche penoso Ma non parlo solo degli attaccanti Parlo di gente esaltata Eh no Quello deve fare il capitano Quello Il nuovo politico Io per primo Il primo coglione Quello il nuovo Pelé Quello il nuovo Maradona Ma che cosa? Che cosa? Con le spalle coperte Da un mister Che prendeva 12 milioni Come Antonio Conte Fate gli uomini Fate gli uomini Soprattutto Cacciatori eh Fate gli uomini Soprattutto nei momenti di difficoltà Al posto di sbracciare Sbuffare Fare il cavatappi E bullizzare D'Ampris Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E viva l'Inter Ragazzi E stiamo vicino a mister Simone Inzaghi Che sta facendo pietà Come tutti gli altri Ma non merita questo trattamento Non commettiamo gli errori Che abbiamo commesso In tutta la nostra storia Eh Per favore Non aggiungo altro Viva l'Inter Viva mister Simone Inzaghi Sosteniamoli Poi a fine partita Incazziamoci Perché è giusto Cioè Non esiste un tifoso L'Inter perde Che abbiamo perso Dobbiamo fare così Incazziamoci Ma soprattutto Chi va allo stadio Io purtroppo Non ci posso andare Perché Non ancora tolgono Questo cazzo di coso Però Anche sui social Inzaghi out Quanto sentite sui gruppi Inzaghi out Inzaghi fa schifo Inzaghi sta sbagliando Ok Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Oggi sono stato lungo Ma mi dovevo sfogare Viva l'Inter ragazzi Avanti curva no E sempre insieme A mister Simone Inzaghi Una scelta Una scelta Obbligata Perché era il migliore In piazza Era il migliore Che potesse proseguire Il lavoro Modulistico Fatto da Conte 3-5-2 Poi che ci può far giocare meglio Che deve migliorare le scelte Sono il primo a dirlo Ok Forza ragazzi Dai Che se adesso Per un po' di tempo Mi prenderò una pausa Ci sarà la pausa nazionale Che per una volta Non vedrò l'Italia Ma me la godrò Rilassato Senza incazzarmi E farmi il fegato marcio Però Occhio Niente è perso ragazzi Niente è perso L'abbiamo buttato alle ortiche Questo scudetto Per adesso Ma niente è perso Animo Viva l'Inter